La soluzione è stata trovata, la soluzione consiste nell'aver preso in giro gli Aretini e Arezzo, perché dopo 15 mesi ci viene detto che ancora la soluzione temporanea decente non c'è e ci viene detto che per la nuova soluzione occorreranno tre anni, ora il Ponte Morandi lo hanno fatto in molto meno. Questa la rabbia e l'amarezza nelle parole dell'ex direttore delle cure palliative dell'ospedale San Donato che avevamo raccolto dopo le ultime notizie sullo stato d'avanzamento dell'ospice di Arezzo. Per la realizzazione della nuova struttura la città infatti dovrà attendere ancora tre anni. I tempi sono correlati a tutta una serie di fasi necessarie, quindi gare, appalti, tutto quello che c'è lì di ITER per quanto riguarda il genio civile, vigili del fuoco, tutto questo, compreso poi una ipotesi sulla costruzione della nuova struttura, della nuova sede potrebbe ipotizzare non meno di tre anni, diciamo, tra una cosa e l'altra per cui non è un fatto così soltanto campato per aria ma è correlato a questioni di fasi necessarie che appunto una nuova opera edilizia richiede. La soluzione definitiva proposta dall'ASL per la quale ci sarà da attendere è la costruzione di una palazzina ex novo nell'area del Pionta. Andrebbe comunque abbattuta e ricostruita, noi potremmo utilizzare il territorio che c'è presente ma in ogni caso l'opera richiede una nuova fase di creazione ex novo. In questo momento i posti letto dell'ospis sono stati messi a disposizione nella clinica San Giuseppe l'ipotesi, ormai in piedi dallo scorso aprile, è quella di trasferirli nella sede provvisoria all'istituto di Agazzi che ha ospitato le cure intermedie fino a questo momento e che comunque deve essere autorizzata anche ai fini sanitari come accreditamento per ricevere l'ospis. Mancano poche cose da questo punto di vista quindi questa questione è attenzionata dagli uffici dell'accreditamento dell'ASL. Quali tempistiche? Le tempistiche io penso che siamo nel giro di qualche settimana. Grazie a tutti.